Ma l'asilo unito è chiuso? Sì, è chiuso come tutti gli asili in Campania, però il nuovo passo si dovrebbe aprire anche le zone rosse, gli asili fino alla prima media, speriamo che a Nola si è chiuso. Ma a Nola è chiuso da quando? È chiuso dall'ultima disposizione che ha dato il Presidente della Regione, poi successivamente Draghi ha detto che anche le zone rosse bisogna aprire fino alla prima media e speriamo che si sono attivati per arrivare le scuole fino alla prima media. I bambini? I bambini non ne parliamo, davanti al televisore, chi ha la fortuna di avere i nonni, i giovani, oppure i babysitter, subito andiamo via, oppure i babysitter a trovarli a pesa d'or, non ne parliamo. Speriamo nel buon senso. E quando i pagamenti sono sempre chi stessi? Sì, non so se spesa a retto perché pagamento fisico. Ho capito.